Sanremo per me è la città di Alfred Nobel, colui che ha inventato e stabilito i premi Nobel. Infatti Nobel visse a Sanremo per molti anni e morì, c'è ancora una villa Nobel dove ho avuto il piacere di fare molte conferenze nel passato. Ma il giorno più memorabile per me a Sanremo è stato nel 2009 per il centenario del premio Nobel a Guglielmo Marconi. Per me il festival di Sanremo invece è stata la porta di entrata per la musica. Era un ragazzo, vidi Bobby Solo cantare Una lacrima sul viso e per il momento mi entusiasmai. Poi capì che Bobby Solo era soltanto una pallida imitazione di Elvis Presley.